Tappa a centro di Bolzano, la nostra guida ci parla della simpatica piazza dove siamo? Allora, ci troviamo in piazza Walter Fonder Vogel Biden, non lo so Di cui potete ammirare il bellissimo monumento Che io in quanto storica dell'arte potrò commentare come... La merda Salutiamo Walter Allò Saluta anche tu, metti la mano per saluta Ciao Walter Allò Lui è maleducato e non saluta Ma